Presidente Bandecchi, giornata importante sicuramente, possiamo dire che è un po' l'inizio ufficiale della stagione 2021-2022 con la presentazione della prima e della seconda maglia che ci sembra sia un stato di suo gradimento a un nuovo designer in casa. Sì, le maglie mi sono piaciute, mi è piaciuta la prima maglia che ha scritto Fere qui sopra il collo, è una cosa carina, simpatica, mi sembra una bella iniziativa e poi mi piace anche tutta la maglia come è disegnata, ha un design, le strisce rosse e verdi sembrano, viste da lontano, semplicemente strisce rosse e verdi, invece hanno una serie di valori aggiunti, è una bellissima maglia, molto elaborata. Mi piace anche la seconda maglia perché è una maglia bianca che però ricorda i nostri colori, li prendi in pieno, diventano due belle bandiere, due belle bandiere e speriamo di onorarle nella maniera giusta e speriamo di essere in grado di far diventare queste maglie, maglie importanti agli occhi degli italiani. Ci siamo un po' viziati l'anno passato, abbiamo detto che la Ternana è una squadra importante che comunque si è fatta guardare e si è fatta ascoltare. Quest'anno dovremo per mantenere quell'impegno fare dei risultati eccezionali, sarà difficilissimo e noi dobbiamo però impegnarci al massimo per poter dimostrare che la Ternana, a prescindere dal risultato, è una Ternana che ci mette cuore, che ci mette anima. Questo è quello che noi vogliamo. Presidente, nuove maglie, nuovo campionato, però solita voglia di combattere, anche perché quest'anno sarà dura, ha detto che l'obiettivo sarà rendere la vita difficile a tutte quelle squadre e sono tante che vorranno vincere questo campionato. Sì, guarda, io lo ribadisco, l'ho detto già a Lucarelli, l'ho detto a Leone e lo penso io. Io in questo momento non lo so nemmeno il campionato che stiamo facendo, so che abbiamo da affrontare 38 partite. Queste 38 partite per me sono 38 finali di Coppa del Mondo. Ogni partita va affrontata con la logica della partita unica, cioè noi dobbiamo concentrarsi su quella partita. Cosa verrà dopo? Noi non lo sappiamo. Come non sappiamo se saremo vivi domani mattina? Non sappiamo se faremo la partita la settimana successiva. E allo stesso modo, con la stessa mentalità, dobbiamo giocare intensamente ogni istante di questa partita. Facendo in modo che a fine dei 90 minuti, o dei 95, o dei 97 minuti, abbiamo dato il massimo di ciò che abbiamo dentro. Come se non avessimo una serata. Così noi giocheremo da ternana. Io voglio questo tipo di mentalità. Lo voglio per me, la voglio per i miei calciatori e noi tutti credo che insieme l'avremo. Silenziosi e ambiziosi. Vuol dire che c'è poco da stare a chiacchierare, bisogna giocare quando siamo in campo. Se sei ambizioso devi dimostrare cosa sei. Poi il risultato è il risultato. La palla è tonda, voi lo sapete meglio di me, no? Quante volte l'altro anno abbiamo vinto con qualche disgraziato che ha giocato contro di noi, che ha preso un palo, una traversa, sono scivolati, hanno sbagliato due rigori e abbiamo vinto noi. Cioè, voglio dire, il calcio è calcio, è bellissimo per questo motivo. Perché delle volte chi si merita di vince perde e chi si merita di perde vince. È imprevedibile. Quindi noi dobbiamo adattarci a questo. Però, però, è prevedibile quanta anima ci metti in ciò che fai. Se ce ne metti poca, allora vuol dire che non sei la ternana. Io voglio una squadra che invece deve onorare questa maglia. Tutto lì. Esattamente come il suo presidente. Perché io quello che volevo uscire un attimo dal seminario del calcio, ma per dirle che oggi comunque questa giornata bellissima per noi giornalisti è stata anche importante perché a chiacchiere sono buoni tutti. Ma oggi lei ci ha fatto anche vedere cosa c'è dietro, no? Quello che è l'Unicusano, un'organizzazione perfetta. Dalla Z possiamo testimoniarlo noi tutti quanti qui. Tutto perfetto, tutto organizzato in maniera perfetta. Sembra un campus che può stare negli Stati Uniti tranquillamente. Io ci ho visto un anno e mezzo e le dico che siamo di quel livello. Quindi penso che questo sia quello che veramente si è dietro. La ringrazio per questa precisazione. Io voglio però che, non so se avete visto anche i laboratori di ingegneria, i laboratori di biologia, cioè tutti i laboratori di genetica. Insomma noi siamo una università privata che prende 63 mila euro dallo Stato ogni anno, che arriva a circa 100 milioni di euro di fatturato, facendo rette da 3 mila euro per i nostri studenti. Quindi voglio sottolineare questo aspetto perché costiamo quanto la media delle università italiane, anzi a Roma forse meno di tante altre università, riusciamo a fare cose incredibili, le facciamo con onestà e con precisione e le nostre ricerche sono sempre considerate tra le migliori in questa nazione. Ricordo che siamo tra le università in Italia che percepiscono più soldi, almeno quest'anno, dalla comunità europea. Le chiacchiere stanno a zero, è come quando arriviamo a fondo alla partita. Chi ha vinto? Ha vinto e che ha fatto gol. Poi l'altro ci ho preso 12 traverse, faccio un esempio molto semplice. Col Frosinone non abbiamo preso una traversa, un palla, abbiamo fatto tante belle azioni, giusto? Volevo essere presidente del Frosinone. Va bene. L'ultima cosa, Presidente. Agosto è un mese importante perché inizia il campionato, però a settembre è ancora di più. C'è il centro sportivo, c'è lo stadio e c'è la clinica. Allora, agosto è un mese importante perché il 21 io non sono convocato. Ripeto che sono un matto, poteva far iniziare il campionato il 21. Io il 21 sto al mare. Il 29 sono convocato e vado a Reggio Calabria alle 9 di sera. Da lì comincerà il mio campionato. Chiaramente spero che nessuno mi voglia rovinare una settimana di vacanza, lo dico a Leone, questo ufficialmente, anche a tutti i ragazzi, perché perdere direttamente il 22 sarebbe allucinante. Cioè, due settimane di vacanze non hanno. Non me le rovinate, per favore. A limite mi starebbe bene anche un pareggio strimezzito all'ultimo minuto dove noi per caso scivoliamo sulla palla, la becchiamo col ginocchio e entra dentro. Centro sportivo, clinica, stadio.